Un abbraccio al mondo intero, di questo sono stati capaci i volontari per le missioni in tutti i 25 anni di attività e allo stesso modo anche nella bella festa organizzata a Novi domenica 10 ottobre per celebrare l'anniversario. Un incontro all'insegna di una fraternità sincera che ha riunito un centinaio di volontari, quelli che nel tempo si sono persi di vista insieme alle nuove leve che ne hanno raccolto il testimone. Tutti però portano dentro il segno indelebile di una, seppur breve, esperienza di servizio missionario. Per verificarlo è sufficiente scorrere le pagine del volume edito per l'occasione che raccoglie decine di testimonianze. Si intitola Ozonche, che in un dialetto del Benin vuol dire Buon Cammino. Il volume con allegato CD si può richiedere a Enzo Galavotti e a Daniela Aleotti. Dopo i saluti iniziali di Enzo e Daniela e il messaggio del Vescovo Elio Tinti, il libro presenta due interventi. Uno di Luigi Lamma, primo presidente, e di Don Carlo Malavasi, allora direttore del centro missionario, che descrivono i primi passi dell'associazione. Seguono poi in ordine cronologico, anno dopo anno, le testimonianze di alcuni volontari che si concludono con l'intervista a Suor Carmen Pini. Nel corso della giornata abbiamo voluto presentare un libro che praticamente raccoglie 25 anni dell'attività e dell'associazione. Insieme a questo libro c'è anche un DVD e la possibilità anche di riepilogare tutte le esperienze di questi volontari sul sito, il nostro sito che è Volmission. I volontari anche quest'anno hanno fatto esperienze intere di missione, chi è in Peru, in Monzambico e anche in Benin dalla Calabaraldi. Anche quest'anno il corso era andato bene, quindi abbiamo dato possibilità a questi volontari appunto di fare le esperienze. Direi che sono state positive, sono andate bene e direi che anche il prossimo anno, sempre verso febbraio-marzo, faremo ancora questa preparazione per chi vorrà fare queste esperienze intere di missione. Nel mese di novembre inizierà l'operazione Oro, praticamente questa iniziativa che noi presentiamo alle varie parrocchie della diocesi di Carpi. Quest'anno sosteniamo un progetto a Locossà, nella diocesi di Locossà in Benin. Praticamente sosteniamo il completamento di una casa del giovane. Con il direttore del centro missionario, Don Fabio Barbieri, facciamo un po' il punto sulle proposte dell'ottobre missionario. L'incontro di oggi, questo convegno missionario diocesano, è uno dei punti forti di questo ottobre missionario. Il convegno di oggi è un convegno rivolto a tutti, a tutti coloro che hanno una qualche sensibilità nei confronti delle attività e delle iniziative missionarie parrocchiali. È un convegno che abbiamo pensato anche rivolto ai giovani in un modo particolare, anche perché il tema è quello del volontariato internazionale, quindi della possibilità di poter trascorrere periodi anche brevi, magari anche lunghi, in un paese di missione. Altro momento importante di questo ottobre missionario, come ogni anno, è la veglia missionaria diocesana. Quest'anno sarà il 23, sabato 23 ottobre, all'ora 21, in cattedrale. Il tema della veglia, come della giornata missionaria mondiale, quest'anno è spezzare pane per tutti i popoli e la veglia richiamerà proprio questo tema e lo svilupperà. sarà presente un sacerdote missionario della comunità Redemptor hominis, che è stato fino a un anno fa missionario in Africa per 17 anni.